buona giornata amici da massimo foghetti oggi giovedì 12 gennaio 2023 bentrovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo subito la lettura dei giornali passando attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san bernardo da corleone una località come tutti sanno siciliana san bernardo si chiamava in realtà filippo latini e visse nel diciassettesimo secolo da giovane era un gran spadaccino in un duello ferì gravemente il suo avversario filippo fuggì si rifugiò in una chiesa e da allora iniziò a meditare sulla sua vita si fece frate e fu ammirato da tutti per la sua dedizione ad aiutare il prossimo quindi una conversione fulmine una conversione una conversione immediata che però caratterizzò tutta la vita di filippo che poi si chiamò bernardo e appunto san bernardo vediamo anche le previsioni del tempo sulle marche il tempo si mantiene nuvoloso l'avvio di giornata sarà nuvoloso con il rischio di qualche residuo fenomeno di pioggia in appennino maggiori aperture però nel pomeriggio i venti sulle coste espireranno con una tensione media da nord ovest mentre nell'interno da nord nord ovest le temperature si aggireranno tra i 5 e 10 gradi leggermente inferiori rispetto alla giornata di ieri ed ora guardiamo la prima pagina del resto del carlino la vediamo qui dove si sentiti dove si sintetizzano le notizie di tutta la provincia vediamo il titolo principale va indagato anche il comune il perito della procura sollecita il processo sulle torri del porto un progetto che non è stato ancora realizzato ma che già a livello progettuale desta delle polemiche ovviamente si tratta del comune di pesaro un profilo penale per il dirigente vedremo poi di cosa si tratta mentre la fotonotizia riguarda il deposito delle lanterne che un tempo decoravano via branca sono ammucchiate per terra mentre un tempo si arrivavano nel cielo della principale via di una delle principali vie di pesaro e poi si parla sempre a pesaro del flop dei gonfiabili il primo round in tribunale va ai privati e poi il risico immobiliare la vecchia sede di banca italia comprata dalle dogane in che conferire in che consenterà anche trasferimento di quella di fano a fano si parla invece dell'episodio di cronaca di un vandalo che ha forato diverse gomme di auto parcheggiate in diversi punti della città poi ruba in chiesa durante il funerale ed è stato condannato tablet in regalo a chi si abbona al carlino in digitale una forma di promozione che usa il giornale mentre a fondo pagina vediamo biodigestore a talacchio ucchielli ha detto no i dati marchigiani sul livello delle polveri sottili il top è ancora qui ancora nella provincia di pesaro e urbino apriamo dunque il giornale sulla pagina di fano e vediamo l'apertura e vediamo come l'apertura è dedicata alla notizia di cronaca pneumatici squarciati al cimitero al perché al parcheggio del cimitero ma anche in diversi altri punti della città denunciato il castigatore con le forbici non era un gruppo di ragazzi spesso vengono accusati perché insomma sono sempre loro di solito che fanno questi atti ma questa volta non c'entrano per nulla era una singola persona un 45enne fanese con qualche problema psichico evidenzia il sottotitolo del resto del carlino non si trattava di un gruppo di ragazzini scapestrati ma di un 45enne con problemi psichici gli agenti del commissariato della polizia locale l'hanno individuato visionando le telecamere ad incastrare l'uomo un italiano appunto residente in un comune limitrofo a quello di fano nella notte di domenica nei confronti di un paio d'auto parcheggiate questa volta la rocca malatestiana sono state appunto le telecamere collegando poi tutti i tasselli ai poliziotti è risultata chiara la fotografia contenuta in questo puzzle di diversi atti vandalici che sono stati compiuti in città al parcheggio del cimitero sono state levate 15 denunce perché sono stati 15 gli automobilisti che sono stati così colpiti da questo atto ed è un atto che economicamente è rilevabile perché poi sostituire due o addirittura quattro ruote in una auto auto ruote forate e beh costa parecchi soldi ed ora parliamo del carnevale ormai siamo vicini alla data d'inizio e la data d'inizio è quella del 17 gennaio il giorno di sant'antonio abate la giornata grassa sant'antonio è il santo degli animali si dice il santo del porcello perché il porcello simbolizza in sé tutta la felicità e tutta l'abbondanza che c'è appunto nelle sue carni e di questo è un po' quello che è la trasgressione del carnevale pronti 180 quintali di dolciumi torna il getto al carnevale di fano dopo due anni che insomma il carnevale ha dovuto fare i conti con la pandemia quest'anno invece c'è una certa liberalizzazione pur con tanta prudenza però torna il getto ed è stato stipulato un contratto nuovo contratto con una nuova ditta che fornisce il getto al carnevale di fano si tratta la dulciar un'azienda di noci non c'è una località in provincia di bari a cui quest'anno la carnevalesca ha affidato il getto l'azienda è di una gestione familiare però ha 45 dipendenti quindi ha una certa rilevanza e ieri appunto in una conferenza stampa il consiglio direttivo della carnevalesca insieme a etienne lucarelli che è l'assessore agli eventi ha fatto ha simulato un atto del getto un momento del getto e qui lo vediamo in questa fotografia vediamo il direttivo con le braccia alzate e qua le caramelle e le cioccolate che volano in aria che poi vengono riversate sulla folla idealmente durante il carnevale ma ieri sono state presentate anche altre iniziative si tratta del ritorno della lotteria una lotteria che viene fatta per beneficenza un biglietto costerà 3 euro e metterà in paglio 12 premi il primo è un premio molto sostanzioso ovvero un'auto Aixam mini auto access della concessionaria Eusebi il secondo premio è un abbonamento metodo Waiib al personal fitness lab che è una palestra appunto fanese il terzo una bici elettrica della ditta Cacioli poi ci sono anche tanti altri premi fino al decimo e oltre appunto tanti premi per coloro che coacquisteranno un biglietto solo 3 euro un'altra iniziativa invece è quella della cena grassa la cena grassa sarebbe la cena di solidarietà di beneficenza che viene organizzata proprio all'inizio del carnevale il 17 gennaio sarà attuata al ristorante mediterraneo show restaurant che si trova nella strada nazionale adriatica nord al numero 53 l'evento avrà inizio alle ore 20 avrà una finalità benefica il ricavarato verrà devoluto alla unione italiana ciechi e i povedenti la cena costa 20 euro e beh è un menù piuttosto fornito che è stato realizzato da uno chef insomma di qualità quindi un'iniziativa benefica che può essere così condivisa da tutti e poi ieri sono stati estratti anche i vincitori di coloro che si sono tesserati alla carnevalesca entro il 6 gennaio è stato attuato un mini concorso con la messa in paglio di tre premi il primo è quello sostanzioso ovvero una postazione di getto fornito di due casse ripiene di dolciumi e qui è stato vinto dalla signora Elena Balducci poi ci sono altri due tesserati che hanno vinto dei vasi d'argento messi devoluti da top argento e sono Francesco Aiudi e Silvana Facchiano che riceveranno come riconoscimento appunto un vaso, una coppa, un portavasi insomma molto molto bello e a fondo pagina vediamo invece la reazione del sindaco per quanto riguarda l'impegno di Vittorio Sgarbi quale segretario al Ministero della Cultura quindi facente parte del governo Meloni per così riaprire la questione dell'Esippo percorrendo la via diplomatica abbiamo visto ieri come purtroppo la via giudiziaria ha lasciato un po' il tempo che trova quindi Sgarbi che contrariamente a quello che aveva fatto il Ministro precedente Franceschini che praticamente dell'Esippo si è disinteressato comincia un po' a riattivare qualche canale per cercare di avere un minimo di speranza per riportare questo prezioso reperto in Italia e soprattutto nella città di Fano Spazio social in ogni quartiere Fanesi lancia la Community Hub per l'assessore la città pubblica sarà il vero motore del nuovo piano regolatore ormai siamo alla presentazione di questo importante strumento urbanistico che dovrebbe prefigurare la città per almeno i prossimi dieci anni ma probabilmente lo farà ancora di più iniziano i confronti con la cittadinanza per le linee di indirizzo una volta recepite le istanze si presenterà il vero strumento urbanistico il vero progetto e poi vediamo qui un personaggio politico piuttosto noto è Davide Del Vecchio Davide Del Vecchio era rappresentante dell'Udc fin dalla sua istituzione nel 2002 però adesso Davide Del Vecchio abbiamo visto anche nei giorni scorsi ha lasciato il suo partito lo ha lasciato ed ora vediamo che ha così entrato che ha accettato di entrare nel partito di Fratelli d'Italia Davide Del Vecchio entra in Fratelli d'Italia la conferma arriva dal commissario provinciale del partito Giorgio Mocchi e da ieri l'ufficializzazione dell'ingresso nel partito di Giorgia Meloni dell'ex consigliere comunale è stato anche assessore della giunta Aguzzi nonché candidato sindaco per il centrodestra nel 2004 a decidere a prendere la decisione di andarsene è stato il progetto del partito ovvero dell'Udc accantonato ormai per quanto riguarda gli impegni che erano stati assunti insomma per Davide Del Vecchio le scelte politiche ormai non erano più condivisibili ecco perché lui ha preso la decisione e ora aderisce a Fratelli d'Italia ed ora passiamo da un'altra località passiamo a Colli del Metauro l'ascensore dei vigili fermo da quattro anni i vigili urbani una sede di vigili urbani è irraggiungibile per coloro che hanno difficoltà di movimento e che quindi si muovono in carrozzina manca l'ascensore l'ascensore non è attivabile insomma non è fruibile proteste a Colli del Metauro da quando il comando si è trasferito l'impianto è fuori uso disabili e persone con difficoltà motorie sono alla porta insomma tocca fare diversi gradini sono 23 i gradini lo vediamo qui in questo piccolo sommarietto per salire a piedi fino alla porta d'ingresso a causa del disservizio occorre fare ben 23 scalini e la protesta ovviamente è di un signore che ha un parente che si muove in carrozzina quindi è ovviamente è un problema da risolvere un altro problema da risolvere è quello delle fermate del treno che quest'estate arriverà dall'Austria e dalla Germania nel nostro territorio ma lo passerà quasi così impunemente si fermerà soltanto a Pesaro e Dancona rimarranno all'asciutto località turistiche importanti come Fano, come Marotta come Senigallia il treno tedesco ci snobba paghiamo noi albergatori pensate quanto è importante questo mezzo di locomazione che viene dall'estero che potrebbe portare molti turisti nel nostro territorio la proposta è dell'albergatore Boris Trappa ex consigliere regionale stiamo studiando un rimborso del biglietto o sconti per chi alloggia nelle nostre strutture ha detto pensiamo ad un rimborso dell'intero biglietto di andata e ritorno per soggiorni di due settimane del ticket di una sola andata per quello di sette giorni e del 20% di sconto per un weekend quindi veramente una offerta promozionale di particolare interesse e qui siamo ad Urbino Urbino avrà la stessa attenzione di Pesaro ieri Urbino è stata fatta visita dal nuovo prefetto di Pesaro Urbino greco Emanuela Saveria greco che dopo essersi insediata a Pesaro ha cominciato il giro della provincia ovviamente ha visitato per primo Urbino dato che Urbino condivide la provincia con Pesaro e oggi sarà anche a Fano l'incontro è avvenuto con il sindaco Gambini in municipio accompagnata dal capogabinetto della prefettura Antonio Angeloni la greco ha portato un saluto alla città per l'inizio del suo lavoro a livello provinciale è un'agenda già densa di appuntamenti quella del nuovo prefetto per garantire soprattutto la sicurezza del territorio ho incontrato il sindaco ha detto e con Fano si chiude il giro di vita per le presentazioni come è giusto che sia e anche ancora una volta la nuova prefetto ha espresso la sua emozione per percorrere quelle vie che un tempo ha percorso anche il giovane Raffaello caso arcidiocesi consigliere sul piedo di guerra non cessa ovviamente la protesta per la perdita della diocesi nella città ducale Nicola Rossi ora è tra i più duri il messaggio trasmesso da Monsignor Salvucci l'arcivescovo di Pesaro è demagogico è poco sincero ha dichiarato e c'è anche il rammarico del Partito Democratico in questo articolo si esprimono diversi esponenti politici Lorenzo Santi a nome del Partito Democratico e di Viva Urbino parla di rammarico per come si sono evolute le cose il capogruppo di Urbino è il Montefeltro Giorgio Londei invita a non partecipare alla cerimonia di insediamento di Monsignor Salvucci il capogruppo di Forza Italia Laura Scialbi apre invece al Vescovo di Pesaro dice vabbè abbiamo saputo quello che è accaduto ci dispiace però ovviamente Salvucci non ha alcuna colpa e quindi lo salutiamo del gruppo misto Luca Londei afferma di aver preso la decisione con grande dispiacere meno concilianti sono le parole di Lino Mechelli capogruppo di Urbino città ideale che ieri ha bollato l'operazione come l'ennesima defraudazione a danno di Urbino e del territorio quello della sottrazione della diocesi quindi qui l'atmosfera è ancora piuttosto calda giriamo ancora la pagina e vediamo come a Cagli si lancia un appello non dimentichiamoci della strada per Roma ovvero della strada che collega Cagli-Cantiano con Gubbio la Contessa l'Udc torna a sollecitare la Regione sul collegamento tra Fano e Gubbio la Contessa è vitale anche e soprattutto per il turismo è la strada che conduce a Roma ovviamente la scheggia è molto difficile da percorrersi quindi la Contessa è la strada più diretta per raggiungere a Gubbio e poi qui con la nuova arteria che conduce a Parigi i tempi sono un pochino più ridotti ma ovviamente lo saranno ancora di più quando sarà risolta la problematica della Fano-Grosseto a questo punto vediamo un attimo anche le pagine pesaresi vi avevo annunciato prima come c'erano polemiche per le torri del porto ora il dirigente dovrebbe essere indagato il perito del PM punta il dito sul comune nel parere depositato al processo per abuso edilizio il professor Paolo Urbani scrive che non ci sono profili penali su chi ha autorizzato malgrado lo scritto questo non significa che la procura apre un nuovo procedimento di indagine e questo è un problema che si protrae come tanti altri appensano da tempo ex banca d'Italia l'affare è fatto l'edificio di via Rossini alle Dogane dopo anni di attesa ha definito il destino dello stabile per fortuna il passaggio verrà ufficialmente domani nella giornata di domani ora i nuovi proprietari libereranno la sede tra via Cecchi e via Calata a Duiglio che è di Berloni non è noto il costo dell'operazione ma inizialmente la valutazione si aggirava sui 3 milioni e mezzo di euro poi era scesa di un milione a 2,5 edificio delle Dogane a monopoli di stato al porto ecco qui lo vediamo in questa fotografia mentre qua vediamo la ex banca d'Italia che dovrebbe appunto ospitare le Dogane verso Pesaro anche i sette dipendenti che ora sono a Fano e il risico che si innesca con questa operazione immobiliare dell'agenzia delle Dogane insomma uno scacchiere se muovi una pedina sei costretto puoi a muoverne anche tante tante altre e qua vediamo il cumulo delle lanterne che una volta erano appese in via Branca le lanterne delle stelle alle stalle ovvero resta solo un mucchio di plastica cala il sipario su una discussa operazione di maquillage luminoso del centro storico e del mare l'amministrazione la inaugurò nell'estate del 2020 per ravvivare gli animi dopo il pesante lockdown è possibile però che queste cose non possono essere riutilizzate e vengono così sprecate dopo che si sono spesi tanti e tanti soldi un'altra vicenda che si protrae è quella dei gonfiabili il giudice civile stoppa il comune il decreto ingiuntivo per 128 mila euro inviato alla Sunset SRL come canoni non pagati deve passare prima per l'ufficio di un mediatore e qui la situazione si aggroviglia sempre di più complessa una recente norma prevede che i mancati pagamenti da contratto a causa del covid siano da valutare in maniera molto attenta sono da valutare bene ebbene ve li ricordate i gonfiabili di Viale Trieste insomma da quanto tempo si parla e quanti articoli sono stati scritti per evidenziare i progressi e i regressi di questa vicenda parliamo anche di polveri sottili si fa un bilancio di come è stato l'andamento della salubrità o meno dell'aria in tutto il 2022 polveri sottili pesero maglia nera delle Marche i dati sull'inquinamento atmosferico rilevati dalla centralina di Parco Scarpellini il 2022 sarà ricordato come un anno molto ventoso e il vento ha spesso aiutato a spazzare via lo smog che appesta abitualmente il cielo sopra Pesaro però neanche questo è bastato a trattenere le giornate prive di polveri sottili queste micidiali polveri che entrano nei polmoni e poi generano pericolose malattie ebbene per quanto riguarda i dati nell'anno appena trascorso la città di Pesaro ha fatto registrare per le PM10 ben 29 superamenti annuali del limite di tutela della salute pubblica fissato a 50 microgrammi per metro cubo molti di più di Ancona che ne ha fatti registrare solo 19 Ascoli solo 8 Macerata appena 2 curioso che a Pesaro il picco di centro microgrammi per metro cubo sia stato registrato proprio la vigilia di Natale centro microgrammi quando ovviamente il limite è 50 microgrammi e questo è un limite già piuttosto alto ed ora passiamo al Corriere Adriatico vediamo come la prima pagina evidenzi il ritorno del getto al carnevale di Fano apriamo il giornale appunto sulla pagina che riguarda la città della fortuna torna il maxigetto 180 quintali di dolci il carnevale riparte con la cena grassa la novità con finalità benefiche abbiamo visto che il risultato di questa iniziativa sarà devoluto all'Unione Italiana ciechi il 17 gennaio giorno di Sant'Antonio Abate e qua vediamo invece come la polizia ha individuato il vandalo che ha rovinato che ha danneggiato molte auto nei giorni scorsi 15 auto a cui sono state bucate le gomme si tratta di un cinquantenne qualcuno dice 45enne qualcuno dice cinquantenne denunciato per il taglio delle gomme la polizia lo sorprende anche a masturbarsi in pubblico quindi veramente veramente una cosa molto molto degradante qui c'è un appello invece sull'articolo di Spalla da parte del consigliere regionale Sir Filippi che dice servono telecamere anche nei parcheggi e già di telecamere a Fano ce ne sono parecchie omaggio del Duca Federico a Fossombrone con lui la città risplendeva Fossombrone chiude le celebrazioni dei 600 anni con sei appuntamenti e sono sei appuntamenti molto molto interessanti si comincia il 5 febbraio con la conferenza di Maria Chiara Mazzi dalle corti alle città un mondo di musiche editori e strumentisti il 24 febbraio un concerto di Gliuto di Hopkins Smith sabato 1 aprile conferenza di Caterina Vedoi l'eredità di Federico nella cultura musicale domenica 2 aprile le insegne di Federico da Montefeltro e i soffitti ligni alla corte alta di Fossombrone conferenza di Antonio Conti a marzo poi si volta pagina con Domenico Rosselli uno scultore per Federico sabato 4 infine a cura di Giovanni Russo la presentazione dell'annunciazione di Domenico Rosselli insomma sono molte iniziative che animeranno anche la cultura di Fossombrone Pergola apre la casa della cultura tra parole arte e concerti Pergola ventata la novità a Palazzo Matteo Baldini con eventi di forte richiamo una vera e propria aria frizzante un mix di musica arte e bellezza per quanto riguarda questa città dove risplendono sempre i bronzi che sono veramente la forza di attrazione di questa località dell'entroterra marchigiano vediamo anche la pagina di Senigallia dove la pista che viene così tracciata sulla spiaggia destra polemiche crossodromo sulla spiaggia protetta ecosistema rovinato grazie sindaco in maniera polemica questo grazie arriva il beach gross a Senigallia residenti e comitato insorgono il comune faremo dovuti i controlli si mette anche in pregiudicato la presenza del frattino che ovviamente se ci fosse sarebbe disturbato dal rumore e dal trassito delle moto sulla spiaggia di Senigallia vediamo anche qualche notizia di sport prima di chiudere vediamo come per la visse è in corso l'operazione attaccante del Borsino sale Cori continua il casting per una punta centrale che deve rinforzare un po' tutto l'assetto della squadra resta calda anche la pista Ardemagni sul fronte delle uscite e Carebba potrebbe finire al Fiorenzuola per quanto riguarda invece il fanno calcio vediamo che l'alma è pronta fare anche un altro sacrificio il vicepresidente Adriano Matteucci prova a dare una scossa e assicura che in caso di necessità il club è pronto a intervenire sul mercato e quindi anche altri esborsi di carattere economico Mondolfo Marotta l'ultimo respiro promozione Valfoglia KO al 94 Sant'Orso rimonta da brividi il Villa San Martino cale il poche la fermignanese di misura e qui abbiamo veramente una panoramica di questo di questo campionato di dilettanti vediamo i recuperi mentre per quanto riguarda la prima categoria il Real Metauro torna solo in vetta ma che rabbia Real Metauro 0 a 0 Osteria Nuova scusate Real Metauro 0 Osteria Nuova quindi un pareggio che lascia le cose invariate e per quanto riguarda il basket a Pesaro la VL il mercato diventa un rebus il rinforzo per ora è Gudmundson un islandese un islandese che piace al coach e si sarebbe guadagnato la riconferma almeno fino alla Final 8 e poi vediamo anche un articolo che riguarda altri sport come il rugby eccolo qua Lucia Gai Orgoglio Azzurro e Pesarese la rugbysta dopo il premio in comune ricevuto insieme a Francesca Sgorbini finalmente più attenzioni per il movimento femminile e qui mi fermiamo il nostro tempo è scaduto e quindi non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 con il TG di Fano TV Occhio alla Notizia grazie per l'ascolto a risentirci